Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono Francesco Le Piccole e oggi assaggiremo Iepippo Allora ragazzi la valutazione si baserà su tre parametri sulla croccantezza sull'estetica e poi si baserà pure sulla crema Allora ragazzi detto questo andiamo con l'assaggio Allora ho aperto la confezione ed è questo qui Allora esternamente è molto accattivante ed è molto carino adesso ragazzi andiamo con l'assaggio veramente buonissimo ha la croccantezza giusta ma non troppo quindi non è neanche troppo dura quindi do un 9 e poi ha una crema buonissima che gli do un bel 8,5 Allora ragazzi io vi invito ad assaggiare questo nuovo prodotto questo nuovo in realtà c'era anche da abbastanza tempo e di assaggiarlo e di iscrivervi qui sotto nei commenti la vostra opinione poi vi invito a lasciare like e a iscrivervi al canale detto questo ci vediamo in un prossimo video ciao ciao a tutti ciao a tutti